musica wey bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xuder e oggi ragazzi abbiamo un sacco di cose di cui parlare e un bel po di video spezzoni da farvi vedere ragazzi sì perché le novità sono davvero tante Natale oramai si avvicina e nel video di oggi parleremo dei nuovi regali che forse non avete ancora visto dei 14 giorni di Fortnite e non vi parlo di quelli che vi ho già fatto vedere vedremo anche ragazzi il nuovo bunker scoperto per caso da un utente e ovviamente non mancheremo di parlare dei leaks che non possono assolutamente mancare nei miei video di informazioni vi ricordo però ragazzi di lasciare un bel pollicione in su se ancora non lo avete fatto iscrivetevi in tantissimi al canale e mi raccomando attivate la campanella per non perdere nessun aggiornamento nessun video che carico ma prima lo sapete lo sapete ragazzi la domanda ve la devo fare la domandina di oggi è molto molto easy ragazzi lo abbiamo visto tutti anche ieri prot la skin dell'ognomo te lo sei shoppato l'ognomo infame scrivetemelo qua sotto nei commenti perché voglio sapere quanti hanno shoppato l'ognomo che è molto molto particolare come skin ma anche altrettanto inquietante quindi ragazzi ciancio alle bande bando alle ciance andiamo subito e rimaniamo nell'argomento dell'ognomo si ragazzi è vero che l'ognomo green balls si chiama è abbastanza particolare come skin ma è anche vero che è molto interessante il fatto che costando solo 1200 v bucks essendo quindi una skin rara sia con degli stili personalizzati non so se ve ne siete accorti potete modificargli gli occhi e non solo ragazzi attenzione perché si potrà ottenere anche un backpack reattivo ragazzi la sua lanterna come vedete dal logo è reattiva e non va a modificarsi in base al numero di nemici che uccidiamo ma in base a quando cala la notte su fortnite quindi si illumina più è scuro un altro o comunque più è scura l'atmosfera intorno a noi tanta tanta roba anche per il nanetto non per l'ognometto fatemi un po' sapere ve l'ho già detto ma andiamo avanti ragazzi e parliamo subito di un'altra cosa interessante nooo i codici nooo si ragazzi sono codici ma sono codici interessanti allora vi spiego un pochettino che cosa sono tutti questi numeri questi dovrebbero essere le skin che usciranno nei prossimi giorni nello shop quindi ragazzi noi vediamo che c'è Cracabella quindi sembrerebbe non saprei dirvi il giorno esatto in cui riescano nel senso o se sono già uscite perché io sinceramente l'ho trovato da un leaker ma non ho capito bene come l'abbia interpretato lui la cosa che lui diceva però è tutta la parte come vedete con scritto unknown quindi sconosciuto sono indicativamente probabili nuovi oggetti ancora non rilasciati nei codici del gioco quindi che nessuno sa io ve lo dico sempre voglio informarvi su tutto quello che so anche io quindi prendetela con le pinze però vedete il back blink del green bell se l'è in alto potrebbe essere da lì il giorno in cui possiamo calcolare indicativamente vedremo se nei prossimi giorni ci saranno delle cose nuove io lo spero perché mi piace veramente un botto quando escono cose che non sono state trovate nei leak mi fanno proprio veramente andiamo avanti ragazzi e parlando di backpack e di regali come vi stavo dicendo voglio farvi vedere ragazzi innanzitutto uno spezzone del backpack del merry manchin che sarebbe il il minima router in poche parole come lo chiamiamo noi in italia eccolo lì che lo state vedendo scoperto da shinabir che è uno dei leakers che sbazzicano in giro per il web è veramente figo raga io ho azzardo a dire che secondo me è il più figo di tutti come backpack ragazzi è davvero è davvero tanta tanta roba e boh non vedo l'ora non sappiamo allora sappiamo che lo otterremo ragazzi sappiamo che lo otterremo nel nei premi della stagione dei 14 giorni di fortnite non sappiamo quando spero che arriverà sotto natale o comunque santo stefano non vedo l'ora di ottenerlo per provarlo ovviamente immagino che anche voi è lo stesso ma sempre a tema di premi ragazzi ecco qua un'altra immagine scoperta che come vedete è una palla di neve con dentro una casetta sembrerebbe ragazzi che questa palla di neve con dentro la casetta possa essere ovviamente uno standardo aggiuntivo che verrà dato al termine della completamento delle sfide dei 14 giorni io mi auguro spero davvero che non sia il punto di domanda sappiamo tutti che ci sono 14 regali ma ne conosciamo solo 13 in realtà ragazzi ricordo che Dave Mustard non so se vi ricordate il capoccia del team grafico di epic games aveva detto che il 14esimo regalo sarebbe stata una cosa incredibile quindi non penso che sia sta cacata non sappiamo adesso bene dove verrà inserito questo potrebbe anche essere il banner segreto della season di della settimana che sta per arrivare della numero 4 quindi io ve lo faccio vedere prendetelo sempre con le pinze e chissà che scopriremo quale sia prima o poi ma andiamo avanti ragazzi e parliamo ancora un attimino dell'evento di capodanno come sapete vi avevo già mostrato questa palla da discoteca gigante che è quella che dovrebbe apparire nel cielo la notte del 31 dicembre in modo che tutti i giocatori presenti in lobby di fortnite balleranno insieme ma ragazzi arriva anche un'altra immagine del nostro famosissimo tyler bla 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 che si chiama in realtà ninja lo conosciamo tutti che forse non sapete farà una diretta di 12 ore al madison square garden che dovrebbe essere a los angeles non lo so comunque da quelle parti lì dove dove ci sono gli americani come vedete ragazzi tiene in mano cioè sta sorreggendo una grandissima e gigantesca palla da disco che è ovviamente ragazzi è molto molto simile a quella che vi ho fatto vedere che vi sto facendo vedere in questo momento insomma un altro evento grandissimo che ci fa capire quanto è tutto quello che ruota intorno al gioco in sé di fortnite sia veramente incredibile ma torniamo ragazzi a vedere un attimino come state vedendo alle mie spalle c'è un anfibio acquatico nella modalità creativa guardate ragazzi che cosa è stato scoperto in questo blocco di ghiaccio una roba incredibile ragazzi guarda un po guarda un po c'è un bunker c'è un bunker ragazzi imboscato lì nella parte ghiacciata della mappa è esattamente identico al bunker che già abbiamo visto ovviamente nel bosco blatterante che è la fermo da quattro season non gliene frega più niente a nessuno ma ovviamente ragazzi potrebbe essere un collegamento con quel bunker che vi ho appena fatto vedere è una figata è incredibile ragazzi nessuno sapeva della sua esistenza ma ovviamente c'è sempre qualcuno che scopre quello che viene portato in mappa e staremo ovviamente a vedere ragazzi se finalmente nella season numero 8 arriverà la possibilità di entrare in questi bunker ma andiamo avanti ragazzi e parliamo di quello che è successo agli utenti di ios dove nell'app store hanno trovato ragazzi nuovamente la skin del rogue agent e non è un bug è una cosa voluta come vedete questo è un tweet di app store ufficiale che dice a tutti i giocatori di fortnite una sorpresa per le vacanze è tornato il pack del rogue agent esclusivamente sui possessori di ios sull'app store ve lo ricordate ragazzi che quest'estate ci fu la polemica quando arrivò lo shop della wild card quindi questo è stato il secondo giorno dopo la modalità fuga questo era lo shop dove insieme al pink flamingo che era il bastone con i fenicotteri tornò l'agente segreto rogue agent e scatenò appunto una polemica incredibile perché era un pack da 5 euro quindi si sono trovati i giocatori a poterlo acquistare con i vbucks ovviamente ci auguriamo che non venga più rifatta una cosa del genere qua invece vediamo semplicemente l'app store che ci fa vedere che possono acquistare il rogue agent per 4,99 ragazzoni io direi che i leaks per oggi ve ne ho fatti vedere abbastanza gli altri ce li teniamo per domani mattina voglio ringraziarvi tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando sempre di lasciare un bel pollicione in su di iscrivervi al canale e di attivare la campanella noi ci vediamo presto ciao 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 ciao